Chi vincerà la guerra tra Russia e Ucraina? Il conflitto tra Russia e Ucraina, iniziato nel 2022, è una complessa situazione geopolitica che coinvolge molteplici fattori militari, politici, economici e sociali, rendendo difficile prevedere con certezza l'esito finale della guerra. Forza militare e strategia La Russia dispone di una delle forze armate più potenti al mondo, con un vasto arsenale di equipaggiamenti avanzati e una notevole capacità di mobilitazione. D'altra parte, l'Ucraina ha ricevuto un significativo supporto militare e logistico dall'Occidente, in particolare dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea, che ha notevolmente migliorato le sue capacità difensive. Sul piano strategico, Mosca ha adottato un approccio che combina guerra convenzionale e operazioni ibride, includendo guerra informatica e propaganda. Kiev, invece, ha dimostrato una notevole resilienza e capacità di adattamento, impiegando tattiche di guerriglia e sfruttando efficacemente il supporto internazionale ricevuto. Supporto politico e stabilità Il supporto internazionale gioca un ruolo cruciale nell'evoluzione del conflitto. Mentre la Russia gode di un sostegno limitato, con pochi alleati chiave, come la Cina e alcuni paesi in Asia e Medio Oriente, l'Ucraina beneficia di un ampio appoggio da parte della comunità occidentale, che si traduce in sanzioni economiche contro Mosca, e consistenti aiuti militari e umanitari. Sul fronte interno, la federazione russa affronta crescenti pressioni dovute alle sanzioni, e alla possibile insoddisfazione della popolazione. In contrasto, Kiev ha dimostrato una forte unità nazionale, e una ferma determinazione nel resistere all'invasione, nonostante le enormi difficoltà affrontate. Risorse economiche e sanzioni Le risorse economiche e le sanzioni internazionali svolgono un ruolo cruciale nell'andamento del conflitto. La Russia, pur disponendo di significative risorse naturali, in particolare nel settore energetico, sta subendo un forte impatto economico a causa delle sanzioni imposte dalla comunità internazionale, che limitano la sua capacità di sostenere lo sforzo bellico a lungo termine. D'altro canto l'Ucraina, nonostante i gravi danni economici subiti, continua a ricevere un sostanziale supporto finanziario dall'Occidente, che contribuisce a mitigare gli effetti devastanti della guerra, e a mantenere la sua resistenza. Morale e impatto umanitario Il morale delle truppe e della popolazione gioca un ruolo cruciale nel conflitto. Mentre le forze russe potrebbero risentire negativamente della durata della guerra e delle perdite subite, gli ucraini mostrano una determinazione elevata, alimentata dalla volontà di difendere la propria sovranità, e dal sostegno internazionale ricevuto. Sul fronte umanitario la situazione è drammatica. Il conflitto ha scatenato una grave crisi che colpisce duramente la popolazione civile ucraina, con milioni di sfollati e ingenti danni alle infrastrutture. Nonostante ciò, gli aiuti umanitari internazionali stanno contribuendo ad alleviare alcune delle difficoltà più pressanti, sostenendo la resilienza del popolo ucraino di fronte alle avversità. Cosa ne pensate? Secondo voi chi vincerà questa maledetta guerra? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie!